Fu scritto un appello sull'Espresso per la destituzione di Luigi Calabresi, mi pare, nel 71, se non mi sbaglio, due anni dopo l'omicidio, la morte dell'anarchico Pinelli. 500 firmatari c'erano pure due, ma c'erano praticamente... Credo di più di 500. Forse di più c'era da Eugenio Scalfari a Giulio Carlo Argan, non mi ricordo se c'era addirittura Norberto Bobbio. Sì, Umberto Eco. Umberto Eco, quindi c'erano quelli che poi sono diventati i più grandi intellettuali, giornalisti italiani. Perché? E soprattutto cosa hai pensato anni dopo di questo? Guarda, so che fa strano dirlo, ma in quegli anni, in quegli anni pensavamo veramente che ci fosse la mano dello Stato, in parte alcune cose, alcuni conti non tornano ancora adesso, la mano dello Stato e dietro le stragi, che Pinelli fosse stato scaraventato volontariamente giù dalla finestra e che a quelle stragi se ne stavano accompagnando altri e che c'era un clima, che in Italia eravamo alla vigilia di un colpo di Stato. E ci sembrava, ci sembrò con quell'appello, non me l'ha chiesto nessuno, ma anni dopo, io sono stato fra quelli che hanno fatto pubblica ammissione, di più di pubblica ammissione, io mi vergogno delle cose che sto dicendo, non provo a rivendicarle, insomma facciamo un errore perché abbiamo dato una colpa, con la scusa, ma quelli erano gli anni di Pasolini, sembra, io so chi è stato, non ne ho le prove, ma so, ecco, io ero, ma non voglio paragonarmi a Pasolini, e altri l'hanno fatto anche in anni successivi, da quella volta io mi sono dato un comandamento, di dire io so ma non ho le prove, rifletti prima di dire una frase di questo tipo. Oppure cerca le prove, il tuo mestiere, se sei un intellettuale, se sei un giornalista serio, io va a cercare le prove e poi viene, perché è affare, io so ma non ho le prove, tanto poi pagano altri, tanto poi, casomai, a sparare, non solo a ricevere le pallottole, ma a sparare sono altri, e io poi vado avanti e ridirò, magari fra due anni, io so ma non ho le prove, beh, io mi vergogno di quella cosa, hai capito? Mi vergogno davvero, insomma, non è una bella pagina della mia vita. Professor Montanari, sei un'altra domanda,